e benvenuti al nostro primo video tutorial di una cucina per tre oggi vi proponiamo le tagliatelle al cacao col sugo di coda macina e adesso andiamo a disimpastare i nostri ingredienti facciamo la nostra bella montagnetta di farina con il nostro cacao mescoliamo bene con una forchetta stando attenti a non lasciare grumi soprattutto nel cacao ok dopo aver impastato i nostri 170 grammi di farina con i nostri 15 grammi di cacao e con un pizzico di sale dopo averla miscelata come si deve rifacciamo la nostra bella montagnetta mettiamo il nostro buco in mezzo e versiamo l'acqua e impastiamo baffinato fino a che non abbiamo preso tutta la farina ecco adesso che abbiamo creato un bel panetto liscio e ben amalgamato bello omogeneo i più esperti si possono dilettare a tirare la pasta a mano e fare le tagliatelle a mano quelli un po' meno esperti come me chiederanno lo supporto della tecnologia con una bella impastatrice ecco qua questo è il risultato che abbiamo ottenuto adesso possiamo andare a cuocere in acqua salata per circa 2-3 minuti a seconda di quanto lavorete al dente e poi andremo a condire a tutta l'ottimata con il nostro sugo eccoci qua la nostra tagliatella è pronta abbiamo aggiunto il sugo e mo ce la possiamo pampare buon appetito l'esperimento è riuscito è buona la potete fare ciao buongiorno a tutti e benvenuti questo è il nostro pignone il nostro stop buongiorno a tutti buongiorno a tutti Grazie a tutti.